Proseguire con l'azione Green e dare corpo al piano di sostenibilità portando risultati sempre più tangibili, anche attraverso collaborazioni virtuose con realtà impegnate costantemente nella difesa dell'ambiente e a contrastare le disuguaglianze. Questi temi al centro del convegno diamo credito alla sostenibilità, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, presso la Fondazione di Liegro a Roma. Con il credito cooperativo giochiamo in casa. L'attenzione al sociale, sono certo di dire che le banche di credito cooperativo sono molto più avanti delle altre banche, proprio per quella che è la loro natura. Basta ricordare l'azione dei comitati locali con cui sosteniamo le forze attive dei territori da oltre 20 anni. Soltanto nell'anno 22 BCC di Roma ha erogato contributi per oltre 1.600.000 euro a favore di quasi 2.800 prenditori. Dal punto di vista della governance le azioni ne potrei ricordare tante. Me ne piace ricordare una perché governance non è soltanto governance di CDA ma è governance anche di governo sociale, di compagine sociale. E quindi abbiamo messo in campo un'azione rivolta ai giovani da 18 a 30 anni, dando loro la possibilità di diventare soci, sottoscrivendo sole 10 azioni della banca ad un prezzo di 103 euro. Quindi 103 euro ad un ragazzo, la possibilità di diventare per tutta la vita socio della banca. I risultati sono che in un mese, in meno di un mese, abbiamo 1.300 richieste di adesione di giovani soci. 44 obiettivi da raggiungere tra sociale, ambientale e governance. Durante l'incontro è stato anche presentato il piano di sostenibilità della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Gli obiettivi della fondazione si sposano benissimo con quello della sostenibilità. Anche il Papa ha parlato della sostenibilità integrale. Che vuol dire? Vuol dire mettere insieme le risorse umane, le risorse economiche, le risorse di settore non profit, le risorse anche dell'ambiente. Mettere insieme queste risorse per bene comune. La fondazione di Liegro si occupa di disagio psichico. E il disagio psichico avviene anche quando sei un assetto urbanistico umano che non ti accetta. Noi lavoriamo non per l'accettazione, ma per dare dignità a ogni persona. E io penso, con questa iniziativa della Banca Credito Cooperativo di Roma, che è una banca cooperativistica, ricordiamoci questo, dove ci sono dei soci, con la BCC vogliamo continuare a sviluppare i valori della sostenibilità e come farlo nelle nostre comunità.